benvenuti a questa nuova edizione di lanterna tigine apertura ci occupiamo delle novità che riguardano la villa comunale reggina elena dove torneranno le cancellate ancora parleremo di maltempo con un intervento in arse di angelo campiano istruzione con un pcto tra la nostra emittente e il liceo linare si chiusura con lo sport e il calcio quando mandano tre giorni al derby tra licata e acragas andiamo a vedere i servizi vieni a provare una gustosa pizza anche durante la stagione invernale molly club resta aperto sapori e gusti in una location unica con sullo sfondo un mare da sogno molly club vi aspetto ogni sera mollarella è stato approvato un provvedimento esecutivo per il ripristino dell'inferriata che tornerà a delimitare villa comunale reggina elena il comune ha ottenuto dal dipartimento alle infrastrutture un contributo regionale di 194 mila euro per la messa in posa della cancellata la villa rimarrà comunque aperta durante la giornata e la chiusura è prevista solo nelle ore notturne alla base della decisione anche i continui atti di vandalismo che hanno interessato il parco a confermare gli imminenti lavori di ripristino e l'assessore salvo d'addeo da cui arrivano novità anche relativamente alla video sorveglianza abbiamo due punti uno che quello è un giardino storico tutelato dalla sovrintendenza che ci impone di chiuderlo nelle ore serali il giardino deve essere protetto e tutelato nel percorso di transizione digitale stiamo mettendo mano finalmente a tutto l'impianto di video sorveglianza e l'impianto di video sorveglianza verrà ottimizzato verrà reso funzionante al cento per cento e la villa sarà uno dei posti più video sorvegliati di di licata ci sarà un momento probabilmente in cui la villa potrà tornare a respirare senza le inferriate le inferriate non pregiudicano la bellezza del nostro giardino noi stiamo programmando tutta una serie di attività all'interno della villa non dimentichiamoci che il fatto increscioso che è successo qualche qualche giorno fa sui giochi dei bambini è stato fatto in pieno giorno quindi quello non ci sono inferriate che tengano l'inferriata naturalmente protegge il giardino nelle ore nelle ore notturne e da un senso un senso di 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 protezione proprio al nostro giardino storico stile potenza emozione la tua auto dei sogni ti aspetta da terminal motors scopri l'eccellenza nei nostri showroom entra nel mondo dell'eleganza e delle prestazioni straordinarie auto di classe tecnologia all'avanguardia e un servizio clienti senza paragoni scopri la perfezione su quattro ruote con noi visita i nostri showroom ed entra in un'esperienza di guida unica veniteci a trovare sulla strada statale 115 allicata e a villaggio mosea da grigento Io ricordo ancora come se fosse ieri il mio intervento proprio in quella prima seduta d'aula dell'assessore Dagnino in cui consegnai simbolicamente 3500 firme raccolte dai cittadini licatesi che chiedevano a gran voce l'installazione di un dissalatore nel comune di Licata sono trascorsi circa 90 giorni dopo le rassicurazioni del presidente schifani su un intervento immediato rispetto alla fattibilità dell'opera considerato che veniva richiesto un preventivo sotto il milione e mezzo di euro tempi di consegna di quattro sei settimane ad oggi siamo alle prese ancora con le turnazioni irrighe che superano i 15 giorni in provincia di agrigento perché ho fatto questa premessa perché io mi sarei aspettato da non dall'assessore Dagnino che ovviamente rincorre in questo momento le emergenze ma da un governo che è in carica da sette anni perché il presidente schifani nel suo discorso di insediamento ha voluto ribadire in più passaggi la continuità col precedente governo che non si affrontasse tutto come una continua emergenza perché questa è una regione questo è un Parlamento che passa dall'affrontare il tema dell'emergenza incendi a quello dell'emergenza siccità a quello del dissesto idrogeologico e lo fa quasi in contemporanea cioè in contemporanea in questo momento siamo alle prese con l'emergenza siccità e con il rischio del dissesto idrogeologico con tutto ciò che ha comportato ad esempio nell'agrigentino le sondazioni del fiume salso si aspettano interventi programmati dal 2016 per mettere in sicurezza i corsi d'acqua e allora il mio non è un intervento polemico ma è un intervento che vuole essere costruttivo ma io chiedo invece al governo di affrontare seriamente le emergenze che attanagliano questa terra ecco una dichiarazione allo stato d'emergenza per gli agricoltori nella piana di Gela, Butera, Licata spero che arrivino immediatamente quegli aiuti spero che non ci si perda nella burocrazia perché ancora finanziamo misure per dichiarazioni di stato di calamità di cinque sei anni fa non è stato citato un comparto che ha sofferto particolarmente quello della pesca perché non è stato inserito nella dichiarazione allo stato di calamità allora chiediamo a questo governo di incrementare la capacità di ascolto perché probabilmente quello che serve non è un intesa sui singoli provvedimenti ma è un ragionamento su provvedimenti strutturali la falegnameria caipo arte design è leader nel settore degli infissi in legno e della serramenta la collaborazione con prestigiosissime ville italiane ne testimonia l'importanza dell'azienda veniteci a trovare in via salvo d'acquisto all'icata lanterna tv e liceo vincenzo linares insieme per un pcto la collaborazione va avanti ormai da tre anni e coinvolge le classi quinte degli indirizzi classico scientifico e scienze umane lezioni dinamiche sul giornalismo e sul campo comunicativo con vari ospiti presenti questo quanto fatto alla nostra redazione nel corso di queste mattine a raccontare le proprie impressioni sono state marta lauree maria chiara la rocca entrambe studentesse dell'inares allora buongiorno a tutti sicuramente è stata un'esperienza molto interessante molto coinvolgente in batti volevo ringraziare anche voi che ci avete aiutato in questa esperienza e abbiamo parlato di molti temi attuali e soprattutto che ci hanno parecchio coinvolto sono stati molto interessanti quindi sono andati molto bene questi primi giorni inizialmente diciamo nei primi giorni abbiamo parlato anche della nostra città abbiamo imparato a conoscerla meglio anche grazie appunto all'intervento di alcuni ospiti che ci hanno spiegato meglio quella che è la storia anche della città diciamo abbiamo scoperto molti luoghi che la rendono un'ottima meta turistica e naturalmente poi abbiamo anche parlato di marketing di come i social influenzano la nostra vita di come possono anche essere utili a pubblicizzare la città stessa è stata un'esperienza molto bella piena naturalmente di quelli che sono nuove conoscenze che naturalmente ci porteremo per il resto della nostra vita perché sono anche molto utile è stata una bellissima esperienza e che spero verrà proposta nuovamente anche in futuro Grazie a tutti! Grazie a tutti! Meno tre al derby tra Licata e Agregas senza dubbio la partita più attesa dell'anno da entrambe le tifoserie quella tra giallo blu e bianca azzurri non è e non sarà mai una partita come tutte le altre lo sanno i rispettivi allenatori ma anche soprattutto i calciatori i ragazzi e gli ordini di Romano continuano a lavorare sul campo per preparare al meglio la sfida da capire se ci saranno indisponibili ma il gruppo continua ad allenarsi al completo a eccezione di Cristian Lamberta esterno classe 2006 che ha lasciato il club e tornerà all'Empoli da dove era arrivato in prestito intanto è cominciata la prevendita in casa Licata mentre non ci saranno i tifosi ospiti ai quali è stata vietata la trasferta noi come già anticipato vi accompagneremo al derby con vari contenuti sui nostri canali social e con le interviste ai protagonisti ampio spazio per la sfida ci sarà anche a Monday Night in programma lunedì sera dove analizzeremo il match con vari ospiti in studio in videocollegamento intanto continua a crescere l'attesa in città con i tifosi che fremono in attesa del super derby in programma domenica alle ore 15 al Dino Leotta Manca Caramine Caramine Car Zh